in nazionale buona domenica a tutti sono appena arrivato allo stadio di Attaiai oggi vi faccio vedere quest'altra ala dello stadio e qui ci sono già alcuni campi da tennis dovrebbe essere 12 in tutto i campi da tennis se non ero di contare insomma tempo fa qui c'è l'altra entrata del campo da calcio e qui abbiamo i balletti anche questi fanno bene vedete anche qui c'è altri campi da tennis ok andiamo su a vedere è chiuso non posso farvi vedere il campo all'interno qualche anno fa c'era anche una palestra pubblica chiaramente qui ci sono i bagni pubblici tenuti bene anche nuovi puliti devo dire molto tenuti bene per essere uno stadio comunale e qui ci sono altri attrezzi diciamo per fare ginnastica attività fisica non vengono usati i pesi in pratica usi il peso del tuo corpo ecco qui dentro c'era la palestra pensate che costava solamente 5 baht l'entrata però non c'è più niente la chiusero prima della pandemia e non lo so via comunque erano tutti attrezzi vecchi però 5 baht costava l'entrata ora mi avvio verso il campo inizio la mia attività sì comunque dovrebbero essere 12 i campi dal tennis sono 3, 6, 9, 12 no forse sono anche 15 perché qui sono 12 e lì ce ne sono altri 3